rieccoci al video per l'apertura dei 12 pacchetti di neodiscovere si quelli e iniziamo? si quale pila iniziamo? quella di destra questo? no si è che tu mi stessi anche un pochettino confusa sulla destra e sinistra non è vero meglio inizio io? si allora la prima bustina che andiamo ad aprire è questa di sempre galante è pure il giorno della festa della donna vedi c'è tu vedi c'è tu no non ti preoccupare vabbè comunque è in live così sanno che abbiamo fatto la festa della donna è importante questa cosa si vado vado no vado non so qual è la rara però di questo qua cioè dove sta diciamo vabbè lo scoppiamo sono molto contento di aprire questi pacchetti perché ce li aveva card game questi qua solo che non li ho mai comprati poi allora e abbiamo sono molto contento sono molto contento rosa gli occhi poi l'armida ma tu non capisci la mia contentezza no se si si sentiva ober night obi qui sei tu guarda questa macchina poi no questa sei tu vabbè gira che si sentiva da fuoco no hanno un po' per di orsa e mi sa che già sono in ordine poi muro pericolante e la rara andauro ok quindi non si deve fare nemmeno il il trick è facile non ti muro che cosa? vediamo un pochettino 2 minuti e 3 vediamo quanto si mette si è rotta com'era così? si si non devi fare niente è volata aspetta per mettere un fuoco accanto e se di tu i nomi una volta tanto e questo è quello che conoscete tutti guida la pecore? si una pecore è morto è un serpentiello è una pigna si si ovvio l'energia dell'arca polipe si sta rifugando quello di prima vediamo chi vince questa apertura l'ultimo è vinto l'ultimo è vinto a non dire ah c'è ancora no no polica è questa facciamola vedere perchè è parecchio è bella ti sembra questo è bruttissimo metti la bustina sentino dai tu la cessa dai tu la cessa dai tu la cessa questo è contento guarda che sorriso si è contentissimo e allora whooper poi un orsacchiotto e hanno uno oh polipog katerp queste sono quelle che abbiamo aperto in giapponese ad allumin il è lo stesso set cabuta me li ricordo nato non ridere tv vola no oh ma star bravo è la rara che ci fa su una roccia bursa ring beh fino adesso se non mi fa un po' schifetto questi vacanti vabbè te li apri tu si chiama apri tu si dico che è una delle più belle apri tu apri tu apri tu apri tu vabbè basta non ti apri non ti apri non so posso capire un bottino aiuto guardami la tua no devi facciare la tua e no ecco ti ho ruttato il scherzo un'altra cosa è quella felice si è una dolore ma la tua peste deve essere felice ma io sono felice aspetta aspetta fai mettere a fuoco ah un attimo ok ma puoi andare non sto facendo niente tu sai già l'ultimo gatto però ti che si dice emozioni si troppo ahahah cadere polivax eh di pronuncia Howard si 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 quello stavano quindi ho nato l'evoluzione eh esatto sai sai se forse si diverte da solo ok oh la prima volo che bella è pure rosa aspetta però non è rosa così dai per spiegare mi piace vedere hai visto è bella è intelligente bella questa mamma mia una bambina speciale tu sei bambina speciale non mi copiare ahahah ahahah per la vera rosa facciamo un zoom questo è la prima volo vabbè eh bravo quella è quella che la prendi tu quella rosa la prendi io la prendi io la prendi io davanti eh sì super ovanetti senti leggi ciao ciao nato il vermetto non ho mai capito non so un po' di manca dopo due anni si è capito che non so che leggi ora mi sa che ho anche la mia e non dì perché l'hai vista si no vuoi vedere che quella la eh sì sì lì eh vabbè è un zoom vuoi dire fighter è un zoom ma hai messo troppo bravo ma perché era nera ma perché era nera incazziniera comunque sei razzista ma davanti è bella a me siamo 1 a 1 bellissimo grazie per il bellissimo bambino speciale siamo 1 a 1 la mia è più bella è rosa non è bella sì che bella uffa ma perché perché le imbustano queste cose intanto sono carte ah non le imbustate vedetevi i mazzi di libro della scala 40 ah sì che uno apre il pacchetto hai fatto eh sì poi tutto quanto lo devi è un'eresia questa cosa le carte napoletane sì ma hanno diventata brava però sei bravissima però se non puoi vedere il nome vabbè ma li sanno chi li guarda li sa non faremo non faremo io faccio ma faccio facendo questa mia cicciola leggi leggi no fanno leggere e se tu inquadri forse a me ti hai letto sì ma devi stare a tenda a queste cose vai e non è ok quello vai poi oppi oma night eh questa è la prevoluzione ahah 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 muro pericolante è Wobbafett questo è quello del team robot che brutto sta piandendo no no che cosa è questo tipo con gli occhi eh in pratica secondo alcuni è un altro Wobbafett una cosa del genere ma non la ricordo da sola no va benissimo ahahah la prima parte si conclude con due holo e queste quattro anni va bene non ci è andata male però non ci è andata male uno vero e uno e una pezzottata sì sì va bene non ci dilunghiamo troppo sennò il video viene 10 mila milioni di minuti perché riguardi saluta un saluto a tutti al prossimo video ciao ciao ciao